Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo fino alle 18 del 6 luglio, riduzione di carreggiata per lavori tra Contorsi e Sicignano degli Alburni in entrambe le direzioni. Vi anticipo che sulla raccorda autostradale di Avellino dal 2 al 6 luglio, nella fascia oraria 8-18, sarà attivo un restringimento di carreggiata tra l'innesto con la strada statale 7b Sesserino in direzione Fisciano. Sulla strada statale 87 Sannitica fino al 13 luglio, senso unico alternato per lavori tra Ponte Landolfo e Morcone in provincia di Benevento. Sulla tangenziale di Salerno fino al 21 luglio, carreggiata ridotta tra zona industriale e Salerno-Est in entrambe le direzioni. Per queste ed altre informazioni vi rimando al nostro sito, l'indirizzo è www.muoversi.regione.campania.it. Vi ricordo anche che potete scaricare la nostra app, quella di Muoversi in Campania, per rimanere sempre aggiornati in merito alle notizie sulla viabilità e del trasporto pubblico locale in Campania. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore.